Il Presidente Berlusconi ha dato un'indicazione semplificativa di un partito che è grande e ricco di risorse umane sul territorio e credo che il senso più autentico, non sono ovviamente le segeta del Presidente del Consiglio, è quello che il PDL non deve avere porte e finestre chiuse ma deve avere le più aperte possibili perché soltanto mettendo a disposizione le potenzialità di tutti si possono ottenere quei risultati che un consenso così ampio che sia anche in Puglia, soprattutto quando le competizioni sono di tipo propriamente politico penso non solo alle elezioni per il Parlamento nazionale ma anche a quello per il Parlamento europeo dicevo soltanto fruendo delle potenzialità di tutti si possono ottenere dei risultati importanti per il territorio.